10 agosto, tempo di vacanze, siamo in un autogrill in cui c'è il classico via vai di tutti i viaggiatori, i turisti che si spostano lungo la penisola, siamo nella zona del Piceno e qui abbiamo trovato tanta gente che ci ha raccontato le proprie esperienze con il primo weekend di Green Pass. La carta verde viene richiesta al ristorante, nei musei, la maggior parte ne sono provvisti e per quanto riguarda all'interno la consumazione al bancone. Lei ce l'ha il Green Pass? Sì. Quindi viaggia tranquillamente, può consumare anche in autogrill, pensa sia giusto questo provvedimento? Una cosa molto giusta, se vogliamo tornare alla normalità. Noi veniamo da Bergamo, quindi veniamo proprio dai paesi della Valle Seriana dove abbiamo avuto più di 900 morti, quindi sappiamo cosa vuol dire il Covid. Lei ha il Green Pass? Sì, sono stato vaccinato, sono favorevolissimo. Lei immagino stia viaggiando, gliel'hanno chiesto in giro? Sì, al ristorante, al ristorante all'interno, mi hanno chiesto il Green Pass. Mi hanno chiesto proprio ieri, quindi sono favorevole. Per quanto riguarda l'autogrill, invece, pensa sia giusto, insomma, che non si possa consumare all'interno? Ma, guardi, è giustissimo, anche perché, visto la situazione che ci troviamo, cerchiamo di fare il massimo per non avere problemi poi nell'arrivare nell'inverno. Viaggiare è bello, quindi cerchiamo di attenerci a tutte le sicurezze possibili e immaginabili. Voi avete il Green Pass? Sì. E ce l'hanno anche richiesto, stiamo tornando dalla vacanza e ce l'hanno richiesto. Senza quello non era possibile accedere ai musei, insomma. Musei in particolare, musei e bar, anche all'esterno ce l'hanno chiesto. In autogrill, l'attività non regolamentata dal pass è quella della consumazione in piedi. In questo caso ci si comporta come se si fosse all'interno di un qualsiasi bar in cui si sceglie di bere qualcosa al banco per poi uscire in breve tempo dal locale. L'area ristoro, invece, dell'autogrill, quella provvista di tavoli e sedie per consumare il pasto della tavola calda di turno, è considerata alla pari di qualsiasi altro ristorante al chiuso e quindi è sottoposta al controllo del Green Pass. Pensate sia giusto, per esempio, in autogrill, che uno si ferma a volte per necessità, che venga richiesto il Green Pass per poter consumare un pasto, chi magari è in giro per lavoro? Ma io non mi pronuncio su quello che è giusto o che è sbagliato, seguo semplicemente le regole. Grazie a tutti.